Lo stato di siccità si aggrava con il passare delle settimane. Per gli olivicoltori è una situazione delicata. L'accartocciamento, il cambio di colore delle foglie e la debolezza dei frutti sono i problemi maggiori. Dietro il grande caldo però si nasconde un fattore positivo. Le elevate temperature e la disidratazione delle olive stanno tenendo lontana la mosca olearia. Gli attacchi sono quasi nulli, spiega il vicepresidente col diretti Genova Paolo Corsiglia che fa suo l'ultimo bollettino della regione datato 17 agosto dove le percentuali di presenza della mosca in Liguria sono davvero molto basse. Sulla stessa linea la cooperativa olivicoltori sestresi. Le larve della mosca che intaccano la polpa e la portano a cadere al suolo con un innalzamento dei livelli di acidità in questo periodo non trovano spazio. La pelle delle olive è dura e secca, l'infestazione non riesce ad attecchire e le larve muoiono. Il caldo ci sta aiutando da questo punto di vista purtroppo il resto lo fa da padrone con la siccità quindi non è ottimale però la mosca si riesce a combattere abbastanza bene. Sulla qualità quest'anno dovrebbe essere una qualità abbastanza quindi poco prodotto però si presume di una discreta qualità. Stessa cosa per il vino, il raccolto sarà inferiore ma la qualità si prospetta eccellente tanto da far temere l'arrivo delle piogge seppure così desiderate da tutto il comparto agricolo. Che temporali saranno? Si chiede infatti Corsiglia di Coldiretti. Se sarà un maltempo intenso, forte, come quello che nelle ultime ore ha colpito alcune città del nord Italia con consistenti danni a tutta l'agricoltura, allora meglio di no, meglio raccogliere poco ma portare a casa qualcosa. Una riflessione che fa comprendere quanto la situazione sia delicata. Con la vendemmia siamo al novantesimo, dice Corsiglia facendo un esempio, una violenta aggrandinata adesso e i raccolti andrebbero distrutti.